buona pasqua a tutti amici interisti una pasqua dolcissima per noi non poteva davvero finire meglio il sabato di campionato il più tre scolpito ieri sera nella classifica l'epilogo perfetto cullato a dovere nella mente dell'intero ambiente nerazzurro al triplice fischio di Milan Sampdoria prima di Torino Juventus dopo la nona vittoria consecutiva che ha permesso alla squadra di Conte di riprendere il filo del discorso archiviando una sosta lunga e tormentata per i casi di covid un segnale prezioso per una volata ormai lanciata è arrivato davvero il momento di gestire ancora meglio le risorse senza mai togliere il piede dall'acceleratore la marcia dei nerazzurri procede al ritmo serrato e all'orizzonte davvero non si scorgono nubi merito dell'allenatore abita ad allenare soprattutto la testa oltre che i muscoli dei suoi ragazzi e l'intera un solo modo il duro lavoro e i risultati per rispondere ai ripetuti proclami delle inseguitrici puntualmente smentiti e ricoperti anche da un velo di sottile imbarazzo è impossibile dimenticare nell'era dei social i proclami fatti dal Milan di Pioli cui personalmente ancora non riesco a credere come abbia potuto pensare che il Milan potesse arrivare davvero in fondo anche se ha fatto un campionato sicuramente di livello e credo che l'unica vera rivale sia stata sempre la Juventus Juventus che però è in un lento ed inesorabile declino e come ha detto bene Chiellini ieri lo scudetto è andato e allora non resta che racimolare almeno il terzo e il quarto posto per la qualificazione in Champions ma veniamo a noi lo scudetto è a quota 87 mancano soltanto 19 punti ovvero bastano 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 sfide per lasciare dietro il Milan che è sotto anche nello scontro diretto punti sono relativamente facili l'Inter a 68 punti il Milan a 60 l'Atalanta 58 Juve Napoli a 56 quindi 19 punti sono utili sufficienti per essere irraggiungibili anche perché il Milan per arrivare a 87 dovrebbe vincerle tutte e anche in quel caso sarebbe dietro in virtù del bilancio negativo nei derby dopo infatti la nostra sconfitta per 2 a 1 abbiamo rimediato vincendo 3 a 0 il ritorno quindi basterà vincere 6 partite e un pareggio a prescindere dalle rivali che iniziano a sfarinarsi e 19 punti sui 30 disponibili sembra un obiettivo davvero la portata di una squadra che ne ha portati a casa ben 27 su 27 disponibili praticamente vincendo tutte le gare del girone di ritorno e udite udite abbiamo fatto 56 punti degli ultimi 63 adesso testa mercoledì quando è importante vincere per mettere davvero il sigillo finale a questo campionato e poi tutto sarà in discesa verso questo scudetto che davvero mancava da tanto tanto troppo tempo io vi rinnovo gli auguri di una buona pasqua vi rinnovo ovviamente anche l'invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like